Per il Tribunale di Bassano si aprono spiragli sempre più consistenti di speranza. L'odierna visita romana dell'ordine degli avvocati bassanesi al Ministero ha avuto un esito positivo. La stessa Presidente della Commissione del Gruppo di Lavoro per il Riordino della Geografia Giudiziaria si è stupita della decisione di chiudere il Tribunale di Bassano. Abbiamo parlato in modo rapido, seppur ampio, della situazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Bassano pertanto dei 20 milioni di euro giacenti e sono definita la situazione paradossale. La Commissione, istituita dal Ministero di Giustizia, si stupisce dunque delle decisioni dello stesso Ministero di Giustizia. Paradossale perché c'è un Palazzo di Giustizia che comporta 11.400 metri quadri di spazi giudiziari disponibili che non verranno mai utilizzati se resterà in vigore l'attuale decreto legislativo. Lei dice che questa cosa ha dell'incredibile. Intanto i tempi processuali a Bassano si allungano. I tempi medi di Bassano erano a torno di 4-5 anni, adesso sono a torno di 10-13 anni circa per un processo civile ma soprattutto le cause di lavoro che prima avevano udienze fissate a 90 giorni, 60 giorni adesso siamo a 3 anni.